Noi siamo convintissimi che dopo la pandemia niente sarà più come prima e dobbiamo immaginare nuove politiche sul turismo. E' calato il sipario su BTO, B-Travel, On Life, la Kermess sul presente e il futuro del turismo promossa da Camera di Commercio di Firenze e Regione Toscana. Cinque giornate di confronto con 250 speakers e 100 eventi online. Sappiamo che il turismo rappresenta molto per la nostra regione in termini di PIL e quindi è interesse di tutti. Abbiamo rimesso al centro Firenze e la Toscana in questi cinque giorni all'attenzione dell'Italia. L'edizione appena conclusa coinciso con il momento della ripresa economica che al netto della situazione sanitaria nazionale e internazionale spingerà alla crescita del PIL italiano a fine 2021 a sfiorare il 7%. Colgo l'occasione anche per sottolineare l'importanza della sinergia che ormai esiste da anni tra le istituzioni pubbliche, Regione Toscana, Camera di Commercio di cui Promo Firenze è l'estrumento attuativo. Grande spazio a digitale e nuove tecnologie. Alla fine si sono messe a confronto idee e proposte che aiutano a vedere il turismo del futuro.